Per il terzo Natale consecutivo, grazie al lavoro degli addetti dell'azienda partecipata della città metropolitana di Napoli, Armena S.P.A., e in particolare di Giovanni Sito, è stato allestito all'ingresso della sede di Via Don Bosco il suggestivo presepe, segno del legame con le tradizioni e la fede napoletana. Il presepe, hanno ricordato i dipendenti di Armena, rappresenta il senso della comunità dei lavoratori dell'azienda e di tutta la città metropolitana di Napoli. Tratti ogni scena separatamente? Viene fatto prima separatamente, poi viene tutti uniti e diventa un solo pezzo. Quante scene hai realizzato in questo presepe? Ne ero tantissime? In questo presepe, più o meno, non l'ho contato, ma saranno una quarantina. Il presepe, più o meno, oh non l'ho contato. Quante scene una questa sensazione vorrei? Tu non puoi, più o meno, non l'ho contratare. Il presepe, più o meno dove anche le prende исп yolkare la crackta incontrazione. Le prende, più o meno, è frasi in questo presepe, più o meno. Il presepe, più o meno, è frasi in questo presepe... Il presepe è 1968 inf containment, è era un presepe mediev subjectedi e με molta ralire посмотреть. Io quindi dovrei. Dalla in che vimanto o meno sono restante, hai core... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.